Il Partito Democratico aretino tira le somme delle primarie di domenica scorsa 3 marzo. E' proprio da Arezzo, già fu prima provincia arenziana nel lontano 2013, arriva un messaggio forte e chiaro di cominciare da zero e soprattutto con scelte inclusive e non esclusive. La provincia di Arezzo con il 64% segna uno dei risultati migliori in Toscana per la mozione di Zingaretti, l'uomo che nel Lazio governa con le larghe intese. Io mi auguro che sia finito un periodo e che ne inizi un altro con Zingaretti, ha un profilo più aperto, disponibile alla costruzione di alleanze nelle realtà locali, la costruzione di reti civiche, insomma un importante passo verso l'allargamento e il confronto che il popolo della sinistra, il popolo del Partito Democratico ha nel suo DNA e che deve ritrovare il più presto possibile. La mozione Giacchetti, sostenuta da coloro che prima ancora erano invece renziani, come Alessandro Caneschi, segretario comunale, raccoglie un modesto 23%. Emblematico il risultato di Laterina e il comune di Maria Elena Boschi, renziana ora schierata con Giacchetti. Qui Zingaretti vince con il 63%. Maurizio Martina, il terzo candidato, ha raccolto infine 380 preferenze con la percentuale del 12,75%. Zingaretti lo ha detto chiaro, non sarò il capo del partito, ma di fatto è il nuovo segretario che traghetterà il PD in una nuova stagione. Sono sette i rappresentanti del PD a retino che legati alle varie mozioni andranno a ratificare a questo punto il risultato del 17 del prossimo mese a Roma. Per la mozione Zingaretti appunto sono postati i primi quattro, tra cui Barbara Croci, il sottoscritto, Francesca Sansoni e Giuseppe Giorgi. Poi ci sarà Marco Donati, Alessandro Caneschi e Francesca Neri per le altre due mozioni. Per Arezzo le sfide sono alle porte, quella per il Parlamento europeo e per i comuni che andranno al voto in primavera e poi nel 2020 le regionali ed il comune capoluogo che dovrà di nuovo scegliere l'inquilino di Palazzo Cavallo. Sì, saranno appuntamenti importanti e la partecipazione ai seggi e alle primarie sta dando un segnale positivo di incoraggiamento rispetto al percorso che abbiamo fatto, tra l'altro in altre realtà come ad esempio San Giovanni, la partecipazione e le prossime priori che ci saranno domenica prossima per scegliere il candidato a sindaco, saranno un ulteriore banco di prova per verificare se la disponibilità del Partito Democratico, l'apertura che si è registrata con questo nuovo corso riesce finalmente a tornare in sintonia con i propri cittadini, con i propri elettori come ospichiamo. Alla fine la capacità di Zingaretti sarà quella di trovare una sintesi e una mediazione tra tutte le amanimine del PD e rappresentare al meglio gli italiani.